Allora, buon pomeriggio a tutti. Ministro, grazie di essere qui con noi. So che ha fatto molto tirato nelle corse oggi, quindi cerchiamo di essere brevi e andare subito al punto. Del resto l'argomento è molto semplice, no? Non è una cosa che divida più di tanto. Io partirei da un libro che lei ha scritto, che si intitola La scuola dei talenti. È un argomento di cui si è molto discusso questo negli ultimi tempi ed è sempre nell'attenzione dei genitori, ovviamente, che hanno i figli magari particolarmente dotati, a cui vorrebbero garantire un avvenire migliore. E allora le chiedo, secondo lei come si fa a sviluppare all'interno di questa scuola italiana i talenti dei ragazzi al meglio? Qualcuno ha parlato di classi speciali, classi separate, di una divisione, percorsi diversi. La sua idea qual è? No, questa è la visione che hanno adottato in Francia e che io non condivido. Tra l'altro devo dire che ieri ho incontrato la ministra francese e ha voluto che le mandassimo una coppia delle linee guida sul tutore, il docente orientatore, sulla riforma dell'istituzione tecnico-professionale e anche sul voto ricondotta. Questo mi ha fatto molto piacere perché, insomma, c'è stata anche, dopo che l'ho raccontato quello che stiamo facendo noi qua in Italia, c'è stato un notevole interesse. Ma i talenti, innanzitutto, ogni giovane, a mio avviso, ha delle abilità, ha dei talenti che vanno individuati e vanno valorizzati. Questa è la scuola costituzionale, cioè la scuola che mette al centro la persona e lo studente e questa è la scuola che si ispira ad un modello di psicologia che si è affermata alla fine del Novecento, per cui le intelligenze sono tante, non esiste un modello unico di intelligenza e ogni intelligenza ha la stessa dignità. E quindi da qui il docente tutor, da qui la personalizzazione della formazione, infatti questo sarà uno dei temi che verranno trattati al G7, che si terrà a Trieste, su cui devo dire tutti i paesi coinvolti hanno convenuto, e il tema della personalizzazione vuol dire sostanzialmente che il docente tutor, insieme con gli altri colleghi, in una logica di team, individua quelli che sono le abilità e anche le debolezze, i ritardi del giovane, e quindi costruisce un percorso di formazione modellato sulle necessità, sulle esigenze dello studente. La scuola ha risposto benissimo, il 99% di adesioni, c'è stata una formazione, sono partiti, riguardano per il momento gli ultimi tre anni di tutte le scuole superiori, valuteremo ovviamente con i nostri due istituti in dire invalsi l'efficacia di questa forte innovazione, che però devo dire in altre realtà ha dato risultati ottimi. Questo cosa significa? Personalizzare significa per esempio al pomeriggio saranno coinvolti anche gli insegnanti disciplinari per potenziare la matematica, per potenziare l'inglese, per potenziare l'italiano. E questo vale sia per chi ha eventuali carenze? Questo vale per tutti, questo vale per tutti ovviamente, e per la prima volta abbiamo anche individuato delle risorse per pagare sia il docente tutor, sia i docenti disciplinari che dovranno approfondire. Poi c'è il docente orientatore che è quello che deve dialogare con la famiglia, con lo studente stesso per far capire quali possono essere i percorsi futuri, quelli più idonei, quelli più corrispondenti ai talenti del giovane, perché è inutile che magari condizionato dalla moda vada a fare un percorso, dalla moda intendo, dal condizionamento di parenti, di amici, di letterature varie, vada a fare un percorso che non è corrispondente con quelle che sono le sue abilità, invece la scuola ha il dovere di consigliare, di suggerire quello che è il percorso che potrebbe essere foriero di sviluppi più interessanti. Questa è una forma di valorizzazione, poi ha connessa la riforma dell'istruzione tecnico-professionale in via sperimentale, che prende atto del fatto che ci sono tante intelligenze, tanti talenti e bisogna dare a questi giovani che magari hanno un'intelligenza pratica, hanno un'intelligenza concreta, la possibilità di manifestarla in un percorso di eccellenza che non deve più essere considerato un percorso di serie B. L'istruzione tecnico-professionale è un percorso fondamentale per il nostro sistema produttivo, è un percorso che dà delle potenzialità enormi ai nostri ragazzi, se è vero quello che dice Union Camere che ogni anno un milione di posti di lavoro non viene coperto per mancanza di qualifiche corrispondenti, beh questo è un delitto nei confronti dei giovani ed è un delitto nei confronti del nostro sistema produttivo che non trova ovviamente delle competenze per essere competitivo. Quindi da questo punto di vista la riforma 4 più 2 che porta prima i giovani nel mondo del lavoro, che porta prima i giovani nel percorso successivo, che costruisce una filiera 4 più eventualmente il 2 degli ITS, forte collegamento col mondo dell'impresa, io credo molto in questo collegamento scuola-impresa, credo molto nel valore lavoro che deve essere sottolineato, valorizzazione forte degli ITS, internazionalizzazione eccetera. Visto che ha evocato il coinvolgimento dell'impresa, allora io le devo chiedere che genere di rapporto deve avere la scuola statale pubblica con i privati, con le imprese, qual è il giusto rapporto fra i due soggetti? Ma tutta la scuola pubblica è scuola statale e scuola paritaria, quindi è tutta scuola pubblica. Io credo molto in questo collegamento, un collegamento importante, perché soprattutto nell'istruzione tecnico-professionale se non si fanno delle esperienze dirette nell'azienda, nell'impresa, abbiamo messo nella riforma che gli imprenditori, i manager, possono insegnare nelle scuole, quindi se mancano specializzazioni la scuola può prendere dall'impresa i docenti. Se non c'è questa esperienza pratica, questa concretezza, si rischia di fare formazione teorica che non dà prospettive lavorative concrete e d'altro canto questo è l'esempio che si è seguito in molti paesi europei, penso alla Germania, penso alla Svizzera, penso all'Austria, penso alla Svezia, quindi non soltanto paesi dell'Unione Europea, che si vuole fare per esempio in Francia, ieri parlavo con la ministra. Questo collegamento, e quando sento qualcuno che dice che questo collegamento sarebbe sottoporre la scuola alle esigenze dell'impresa, beh non lo racconto all'estero perché altrimenti si metterebbero a ridere, perché quando parlo con ministri socialdemocratici, macronisti, quindi ministri che non sono certamente... Nel passato con la scuola lavoro un po' di problemi ci sono stati, comprese dei morti addirittura di ragazzi. Beh, noi abbiamo rafforzato la sicurezza sul lavoro, abbiamo fatto delle norme molto importanti per cui ovviamente le aziende devono corrispondere a determinati requisiti molto precisi, il piano deve essere, il piano dell'offerta formativa deve essere coerente, quindi la scelta dell'impresa coerente con il piano dell'offerta formativa. Credo che da questo punto di vista il decreto che noi abbiamo provato, d'intesa col ministro Calderone, sia un decreto particolarmente innovativo, insegneremo anche nelle scuole la sicurezza, la sicurezza sul lavoro, sarà prevista addirittura nell'educazione civica, però se questo si fa in tutti i paesi avanzati del mondo vuol dire che si deve fare. Senta, lei prima ha citato di sfuggita la condotta. Allora, noi leggiamo nel notiziario troppo spesso di insegnanti maltrattati, picchiati, è un problema che c'è evidentemente, un problema del rapporto tra il corpo docente e gli studenti. Come si risolve questo problema qua? Basta? È sufficiente un nuovo atteggiamento nei riguardi della condotta? Perché lei mi insegna che tutte le volte che si tocca la condotta ci sono poi polemiche e problemi. Ma guardi, innanzitutto devo dire che una scuola capace di motivare, ecco perché la personalizzazione, ecco perché la scuola dei talenti, ecco perché il tutor, eccetera, una scuola capace di motivare è anche una scuola che riduce questa criticità, riduce il bullismo. Io ho visitato istituti di formazione, di istruzione professionale dove ragazzi che avevano avuto problemi con la giustizia, che erano stati condannati addirittura per rapina, per spaccio di droga, che avevano alle spalle bocciature, che avevano problemi comportamentali gravi, si erano trasformati radicalmente perché avevano trovato un percorso coerente con le loro passioni, con i loro sogni. Ecco, la scelta anche del modello di scuola giusto, il docente che sappia motivare, indubbiamente, e quindi una, ripeto, una didattica sempre più personalizzata, indubbiamente riduce molto, perché se tu sei interessato e coinvolto probabilmente hai anche meno spazio per lasciar correre le tue fantasie negative. E poi però c'è anche il momento della responsabilità. Credo molto nel valore della responsabilità individuale, ci siamo abituati a dare sempre la colpa alla società, invece c'è anche una responsabilità individuale. Accanto ai diritti siamo stati abituati praticamente a questa iperfettazione dei diritti, dove ci sarebbero solo diritti, ci sono invece tanti doveri accanto ai diritti, perché se non ci sono doveri, non ci sono diritti. Se io penso di poter fare qualsiasi cosa, anche a suo danno, se non c'è un limite, se non c'è un limite alla mia azione, è evidente. Se io non ho dei doveri di astensione, è evidente che non ci sono neanche i diritti, i diritti non hanno nessun valore. E allora da qui dare valore alla condotta, non soltanto col 5 si boccia, non soltanto col 6 si è rimandati, ma anche incide sull'esito della maturità, ritorna a incidere nel percorso della scuola media. E poi soprattutto non ha senso, non ha veramente senso la sospensione come è intesa oggi. Cioè se io sospendo un ragazzo che ha picchiato un insegnante e lo tengo a casa per 15 giorni, ma gli faccio un regalo, perché quel ragazzo oggi come oggi cosa farà? Giocherà alla Playstation, giocherà sul cellulare, magari frequenterà in qualche caso persino cattive compagnie. Se invece quel ragazzo sarà costretto a fare più scuola e se quel ragazzo sarà costretto anche a confrontarsi in modo solidale con la società e quindi lavorare in un ospedale, in una casa di riposo per anziani. Quindi concretamente una specie di servizio sociale. È una specie di servizio sociale dove impari che cosa vuol dire la solidarietà, perché vede il problema del bullo, ne parlavamo anche ieri a Bruxelles, dove abbiamo tra l'altro affrontato in una colazione di lavoro il tema del bullismo. E il tema del bullismo deriva da ancora una volta questo ego ipertrofico che crede di essere il padrone del mondo. E invece c'è la società, tu vivi, non vivi nella giungla, non vivi isolato, vivi insieme con gli altri e hai dei diritti e hai anche dei doveri, dei doveri di rispetto. Per quello che io insisto molto sulla cultura del rispetto, rispetto verso i docenti, rispetto verso il personale della scuola, rispetto verso gli studenti, rispetto verso gli studenti, rispetto verso le regole e verso i beni pubblici. Qualcuno si è scandalizzato quando io ho attaccato duramente coloro che mentre occupavano la scuola la sfasciavano. E qualcuno ha detto ah, ma Valditara attenta al libero dibattito politico, ma attenzione, l'occupazione non c'entra nulla con lo sfasciare la scuola, anzi credo che sfasciare la propria scuola. Quando sono andati al Severi e ho visto i computer buttati dalla finestra, sfasciati, le LIM, le lavagne elettroniche con i fondi PNR appena arrivate dal Ministero, appena date alla scuola con i fondi PNR dal Ministero. Hanno tagliato i fili della luce, hanno usato gli estintori, c'era questa polvere bianca in tutta la scuola che è anche allergenica, hanno tenuto chiuso la scuola per bonificarla tre settimane, cioè praticamente è stato impedito il diritto allo studio, diritto costituzionale per tre settimane e inoltre almeno 70 mila euro di danni. Beh questo con la politica non c'è troppo niente. Chi dice che questa è contestazione politica non capisce nulla di democrazia. Un conto è l'autogestione, un conto è anche un'occupazione dove si parli di problemi concreti e mi fa piacere che tranne in un caso, dopo che io sono intervenuto duramente, tutte le altre occupazioni si sono risolte con i ragazzi che pulivano la scuola. E questo qualche cosa è servito. C'è un tema economico oltre diciamo a punizioni. C'è un tema economico perché quando ogni anno qualche milione di euro dei contribuenti viene buttato, non dico dove, ma letteralmente in quel posto, soldi nostri, soldi dei contribuenti per consentire a qualcuno. Ecco mi è spiaciuto francamente che di fronte alla sospensione di alcuni di questi ragazzi che avevano sfasciato la scuola ci sia stato qualche genitore che abbia impugnato la sospensione al par. Ecco questo francamente è una cosa, questa mi è ancora più spiaciuta. Senta, tocchiamo un altro tema, dulce sin fundo, un altro tema abbastanza divisivo che è la presenza per ovvi motivi che sono legati anche alla diversa composizione demografica della nazione, che è la presenza di studenti diciamo di origine straniera delle classi. Anni fa ci fu una circolare abbastanza celebre che fissava un tetto di presenza all'interno delle classi. Come si affronta questo tema? Innanzitutto rispondo subito all'onorevole Schlein che si documenti meglio perché altrimenti continua a fare dichiarazioni che dimostrano che non ha dei buoni consulenti in materia di scuola. Perché il primo governo che mise dei tetti articolo 45,3 di un decreto Berlinguer controfirmato da Ciampi, presidente del Consiglio d'Alema, quindi voglio dire se la prenda con la sinistra. Il problema è quello della reale inclusione, della reale integrazione. Allora non è tanto un problema tetto sì o tetto no, è un problema innanzitutto di distinguere se tu studente che arrivi in Italia conosci l'italiano o no. E parto da dati concreti perché a me piace la concretezza, non il ragionamento ideologico che fa sempre la sinistra. Allora la concretezza dice che, dati istat quindi, oltre il 30% dei ragazzi stranieri di prima generazione si disperde. Dispersione scolastica al 30%. Questo vuol dire non inclusione. È il dato più alto in Europa in assoluto. Pensate che invece per gli studenti italiani la dispersione è del 9,8. Quindi vuol dire che un terzo dei ragazzi stranieri rischia di non avere in mano nulla per affrontare il futuro. Allora è razzista preoccuparsi di questo o forse è razzista non fare nulla e accettare questa realtà? Perché se qualcuno mi dice che questa realtà 30% e rotti per cento dati istat di studenti stranieri si disperde, va bene così, beh io credo che non abbia una grande coscienza democratica ancora una volta. Poi c'è un altro dato, conoscenza della lingua italiana, sempre ragazzi stranieri che sono di prima generazione. Infatti ho sempre sottolineato anche nel mio libro La scuola di talenti, ho sottolineato la grande diversità tra i stranieri di prima generazione e stranieri di seconda generazione, anche dal punto di vista di impatto formativo. 22% che ha risultati molto negativi in italiano. Sapete cosa vuol dire 22% in meno rispetto a uno studente italiano? Vuol dire che c'è uno studente italiano e uno studente straniero, ci sono, nella stessa classe, uno ha un anno in meno di formazione. Lo studente straniero ha un 22% vuol dire un anno in meno. Siamo contenti così? Beh, vuol dire non volere il bene di questi ragazzi. E allora che cosa bisogna fare? Si scrivono tutti, innanzitutto si fa una verifica, conosci l'italiano o non lo conosci? Se lo conosci l'italiano è evidente che il problema non sussiste, se lo conosci non sussiste il problema. Se non lo conosci l'italiano e soprattutto bisogna innanzitutto evitare che in quella classe ci sia maggioranza di ragazzi che non conoscono l'italiano. Perché se in quella classe la stragrande maggioranza dei ragazzi non conosce l'italiano diventa un poco più difficile. Quindi se capisco il discrimine non è il numero di stranieri ma il numero di persone che conoscono. È ovvio, gli stranieri che non conoscono l'italiano, questo è il punto. Ma il problema vero ancora più reale è che iscrivendo tutti nella stessa classe, perché per esempio inglese lo conoscono meglio degli italiani, storia non hanno problemi particolari. Allora dove hanno grossi problemi? Hanno problemi in italiano e in matematica. Fare corsi di potenziamento per quei ragazzi stranieri che non conoscono l'italiano e che quindi hanno problemi di italiano e magari anche di matematica. Corsi di potenziamento, a parte perché ovviamente non li puoi fare insieme con un ragazzo che parla normalmente l'italiano. Al pomeriggio come diceva prima? No, si possono fare in due modi a mio avviso, infatti il decreto che stiamo preparando andrà in questa direzione, li puoi concentrare alla mattina e fare italiano, eventualmente anche matematica potenziato, ovvero fai italiano, deciderà poi l'autonomia della scuola, fai l'italiano insieme con gli altri tuoi compagni e al pomeriggio obbligatoriamente, non come adesso che non è obbligatorio, con degli insegnanti che noi abbiamo già previsto di formare con una dote economica anche adeguata, al pomeriggio obbligatoriamente approfondirai l'italiano. Così noi non possiamo andare avanti perché altrimenti noi non diamo un futuro a questi giovani. Questo è il punto. Io ringrazio il Ministro Valditara della chiarezza e quindi lo lasciamo tornare ai suoi impegni che so essere pressanti e lasciamo spazio agli altri. Siamo stati rapidi, precisi, indolviti, promosti. Grazie a voi. Se noi ci davamo un voto in condotta negativa.